Cresce l'attesa per l'arrivo in Abruzio della vecchia signora con la testa i bianconeri di Massimiliano Allegri. Il Pescara farà le prove generali alla gara con la squadra torinese questo pomeriggio alle 15 al comunale di Cupello dove la squadra di Zdenek Zeman affronterà in amichevole la formazione vastese che milita nel campionato regionale di eccellenza. Il tecnico boemo potrebbe provare anche quella che sarà la squadra da mandare in campo sabato allo stadio adriatico contro i campioni d'Italia. Sotto la lente di ingrandimento del tecnico pescarese ci sono in questione buyback che però potrebbe anche saltare la gara di oggi per proseguire il programma di recupero dopo l'infortunio di Empoli. Coda e Fornasier entrambi in lizza per sostituire al centro della difesa lo squalificato bovo. Intanto il procuratore federale ha deferito dinanzi al tribunale federale nazionale sezione disciplinare l'attuale vice capitano del pescara Alessandro Bruno. Insieme a lui anche il vecchio compagno dell'atina Marco Crimi all'epoca dei fatti entrambi calciatori tesserati per il latina calcio nonché il signor Pasquale Maietta all'epoca dei fatti amministratore e legale rappresentante della società pontina in ordine alla violazione dell'articolo 1 bis comma 1 del codice di giustizia sportiva di violazione di quei principi di lealtà probità e correttezza che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva della federazione italiana gioco calcio.